La zeta dello sport, e poi il corriere dello sport. È tanto una questione di testa, perché le gambe non vanno più, perché dopo la reazione di Monza ci si aspettava che potesse cambiare la stagione, invece col Frosinone bene 10 minuti poi il malissimo resta la partita. Oggi, per esempio, è più o meno, è addirittura peggio di quello di Monza. Quindi, cos'è, la testa che non funziona e le gambe che non vanno? È la testa. Le gambe vanno, perché i test che facciamo settimanalmente parlano di una squadra che sta bene fisicamente. È la testa. Questa squadra si porta dietro le scorie di un'annata balorta, non riesce a reagire. Io sto provando in tutti i modi di scuoterli, anche con mezzi abbastanza duri, però evidentemente non sono stato capace, e ripeto, la colpa me la prendo io, perché pensavo di poter fare di più.